La fibromialgia per sua natura, perché è una patologia molto dolorosa, che determina stati di profondo affaticamento, ha un impatto importante sulla vita di relazione delle persone che ne soffrono e anche ovviamente sulla vita lavorativa. E noi parliamo di questi aspetti con la dottoressa Alessandra Alciati, medico-psichiatra presso Villa San Giovanni Menni, presso Como, che abbiamo incontrato a Milano in occasione del Congresso Nazionale dell'AISF, l'Associazione Italiana sulla Sindrome Fibromialgica. Allora, come incide la fibromialgia sulla vita di relazione delle persone? La fibromialgia tende a allontanare il paziente dalle relazioni sociali. Si è visto che anche la parte del divertimento, la parte ludica, viene sacrificata, perché il paziente spesso sta così male da non potersi permettere di trascorrere, ad esempio, un periodo di tempo abbastanza prolungato fuori di casa o con gli amici. Teme sempre di dover interrompere l'incontro e magari essere disturbante. E poi ogni uscita di casa deve essere valutata nell'ambito di quelle che il paziente sente come le sue risorse fisiche e anche psicologiche. Per cui spesso la soluzione più immediata è quella di rinunciare. Il paziente poi si isola, cioè non si fa più amici nuovi, tenta un po' a chiudersi anche in se stesso? Magari non volontariamente, ma poi alla fine il risultato è questo, che il paziente incontra meno persone e raggiunge poi un grado di isolamento sociale che magari non corrisponde alle sue caratteristiche personali. E qui invece come incide sulla vita lavorativa? La vita lavorativa è molto influenzata dalla presenza di fibromialgia perché i pazienti non riescono a lavorare per periodi prolungati, si stancano facilmente, hanno dei grossi problemi di concentrazione. Spesso hanno dei momenti della giornata nei quali lavorano con maggiore facilità e altri in cui diventa veramente difficile mantenere la concentrazione e sentirsi sufficientemente a posto fisicamente. Lei ha presentato i dati di uno studio spagnolo abbastanza interessante. Sì, è uno studio che ci dice quanto poche siano le persone con fibromialgia che hanno un lavoro stabile. Spesso le persone hanno un'invalidità oppure sono in malattia oppure sono disoccupati. Con dei riflessi economici anche importanti. La parte più impressionante è quella economica. In questo studio spagnolo del 2014 si è valutato che la fibromialgia diminuisce l'introito familiare di 700 euro. Questo è un valore medio. E di queste 700, 200 vengono utilizzate per spese extra inerenti alla fibromialgia. Quindi per i farmaci, per le terapie fisiche, per le terapie riabilitative. Senta, per non vedere le cose troppo in negative, che suggerimenti possiamo dare ai malati o ai loro familiari per cercare appunto di mantenere la situazione in maniera sufficientemente positiva per la loro vita personale? L'approccio dell'accitazione della malattia in realtà è un approccio che riguarda il paziente come persona ma anche la sua quotidianità. Accettare la malattia vuole dire utilizzare energie per sé, per una quotidianità più equilibrata, più serena e per un maggiore rapporto con l'esterno. I pazienti fibromialgici sono persone con un elevato senso del dovere e di solito molto molto attive quando la malattia non è particolarmente accesa. Quindi tendono a utilizzare i momenti di minore sintomatologia per concludere tutto quello che ritengono vada fatto. E questo fa sì che le persone riducano grandemente il tempo a loro disposizione alterando veramente un giusto equilibrio quotidiano tra il dovere e la cura di sé nel senso più globale del termine. Quindi pensare positivo e non solo cercare di contrastare i limiti che giocoforze ci sono e ci saranno. Esattamente, sì. Bisogna cercare di mantenere un atteggiamento equilibrato in cui non c'è un elemento che predomina. Non c'è il dovere, non c'è la ricerca spasmodica di un intervento risolutivo che purtroppo non è ancora a nostra disposizione ma ci deve essere un compromesso che contiene in sé anche grandi elementi di ricerca del benessere e della serenità nonostante il disturbo.